Benvenuti in un nuovo video, io sono Davide, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram al link che trovate qua sotto in descrizione. Oggi siamo a Vienna, in Austria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Visto che si è fatto mezzogiorno ed è ora di cibo, siamo qui a mangiare la tipica cutoletta, la Vienna Schnitzel, una cutoletta di vitello. Buon appetito. Visto che siamo venuti a Vienna, siamo venuti al sacca al caffè dove hanno inventato la torta sacca. Proviamola. Siamo di fronte al Duomo di Santo Stefano. Il suo tetto è composto da 250.000 tegole colorate. La torre nord invece ospita una campana dal peso di 20 tonnellate. È stata costruita fondendo i cannoni dell'esercito turco che aveva occupato la città. La torre nord invece ospita un'esercito turco che aveva occupato la città. Siamo di fronte al castello Belvedere. È una delle residenze principesche più belle d'Europa e al suo interno potete osservare il famosissimo bacio di Clinton. Grazie. 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 Undert Wasserhaus è diventato un luogo iconico di Vienna con le sue case colorate e la cabina telefonica rossa in stile inglese. Grazie. 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 Grazie.